l'incontro con gesù è il più difficile lo è perché noi non possiamo conoscere gesù senza passare dal cristianesimo le fonti che ci parlano di gesù sono fonti cristiane per la gran parte le fonti non cristiane attestano di lui solo l'esistenza nulla di più non ci dicono nulla l'esistenza è la morte per per crocifissione ecco leggendo tacito quindi se noi sappiamo chi è gesù cosa è stato cosa ha insegnato eccetera lo dobbiamo le fonti cristiane quindi dobbiamo passare per il cristianesimo ma il cristianesimo e gesù secondo me questo è il cuore della della mia impostazione non sono la stessa cosa sono per noi la stessa cosa viviamo all'interno di una tradizione che per duemila anni e dice che gesù e il cristianesimo sono la stessa cosa tant'è che parla di gesù cristo e quando noi diciamo gesù possiamo dire gesù cristo o anche semplicemente il cristo e intendere esattamente la stessa cosa ci troviamo all'interno di questa modalità di vedere di pensare ma a mio avviso gesù e il cristianesimo quindi gesù e il cristo non sono la stessa cosa vedete il centro del messaggio di gesù riguarda il futuro lo vedremo il centro del messaggio di gesù ciò su cui lui imperniò tutta la sua esistenza ciò su cui lui giocò la sua vita era un evento futuro al contrario il centro del cristianesimo è un evento passato è qualcosa di accaduto incarnazione morte passione e risurrezione di nostro signore gesù cristo gesù guarda il futuro a un futuro imminente qualcosa sta avvenendo preparatevi convertitevi cambiate vita arriva qualcosa in base al quale il mondo sarà completamente diverso rivoluzionato e quindi anche voi dovete rivoluzionare voi stessi questo è il messaggio di gesù che guarda al futuro il messaggio del cristianesimo è qualcosa è avvenuto qualcosa è accaduto è accaduta che il peccato che gravava su di noi è stato perdonato ed è stato perdonato grazie al fatto che qualcuno è morto per noi e questo è il centro del cristianesimo il passato siamo rimandati indietro al contrario guardando e leggendo le parole di gesù e così come appaiono dai vangeli siamo rimandati in avanti a qualcosa che deve arrivare e che deve arrivare a momenti che sta per arrivare fuori di te anche dentro di te questo dice Gesù e capite quindi che il gesù anesimo è un'altra cosa del cristianesimo il gesù anesimo che non è mai nato come mai da Buddha scaturì il buddismo da Confucio scaturì il confucianesimo e da Gesù il cristianesimo e non il gesù anesimo ecco questo questo è la è ciò che rende l'incontro con lui più difficile oltre al fatto che è più difficile anche perché tutti noi come diceva già Benedetto Croce alla fine degli anni venti del novecento diceva perché non possiamo non dirci cristiani e non diceva Gesùani diceva cristiani quindi tutti noi occidentali abbiamo a che fare con con il cristianesimo quando diciamo la religione pensiamo al cristianesimo sia chi ancora la professa sia chi ha rinunciato chi per esempio non crede più e si professa agnostico oppure ateo a quale Dio ha detto di no? al Dio del cristianesimo non è che si è confrontato con gli dèi del politeismo o con il Dio dell'induismo o la divinità dell'induismo o le divinità dello scintoismo o con la trascendenza del Buddha del nirvana del Buddha no ha rifiutato esattamente il divino che emerge a partire dal cristianesimo va bene ed è per questo che noi poi vorrei dire un'altra cosa lo dico subito fin dall'inizio vorrei dire che personalmente mi sembra come dire molto corretto dichiarare qual è il mio punto di vista ecco il mio punto di vista non è più un punto di vista cristiano da tempo ma è un punto di vista che vorrei dire in un certo senso gesuano cioè io non accetto per la mia vita qui e ora per la mia esistenza di riferirmi a Gesù come vittima immolata a Gesù come agnello di Dio l'idea che Gesù dovesse morire perché così era stato stabilito per lavare con il sangue perché come dice la lettera degli ebrei senza sangue non c'è perdono ecco questa idea di un sacrificio di Gesù venuto a dare la sua vita per noi perché così richiedeva Dio e Dio richiedeva così per togliere il peccato originale questa idea di Gesù agnello di Dio agnello sacrificato immolato per la nostra redenzione vittima immolata per la nostra redenzione come dice il canone della Messa questa idea questa prospettiva è lontana da me l'ho abbracciata per qualche tempo della mia vita e poi l'ho sentita l'ho percepita inconsistente io per la mia vita non voglio nessuna immolazione voglio energia spirituale voglio un maestro che si rivolga con parole sapienti e giuste alla mia libertà interiore alla mia energia interiore che io chiamo anima o anche spirito o anche coscienza e che l'attivi e che infonda motivazione energia a volte anche entusiasmo da intendersi proprio nel senso greco del termine di essere entseos entusiasmo in Dio e io penso che Gesù questo lo faccia Cristo no Cristo con la sua morte e risurrezione con questa e la mediazione di morte e risurrezione mediante i sacramenti ecco questo no per me per me sto parlando per me poi ciascuno di voi faccia quello che ritiene naturalmente ma la figura di Gesù il suo appello al regno di Dio certo che Gesù si è sbagliato è chiaro che sì il regno di Dio che lui riteneva imminente non arrivò e abbiamo a che fare ancora con questo mondo intriso di ingiustizia e quello che che vedeva Gesù ai suoi tempi cioè i ricchi che calpestavano i poveri i potenti che calpestavano gli indifesi e e e tutta la serie di ingiustizie strutturali che lui vedeva e denunciava come un autentico profeta e tutto questo è rimasto intatto è migliorato è peggiorato rispetto a Gesù io penso che sia complessivamente migliorato ma in ogni caso il problema non è risolto il problema non è risolto il regno di Dio non è arrivato il mondo è ancora nelle mani di un'altra logica che non è la logica della perfetta giustizia quindi Gesù si è sbagliato ma questo suo errore come lo vedremo dopo adesso sto proprio andando da subito al centro del centro al nucleo effettivo del problema questo suo errore non è tale da inficiare la bontà la forza del suo messaggio che consiste esattamente nell'annuncio del regno di Dio perché chiunque di voi ascolta le sue parole le sue parole parole di giustizia parole di verità parole di solidarietà parole di generosità e viene attratto dal suo esempio dalle sue parabole può diventare un regno di Dio ecco il punto un dominio un territorio di Dio la tua vita il tuo tempo il tuo spazio può essere dominato da una logica diversa rispetto alla logica del potere e della forza che governa e manda avanti il mondo umano il mondo della storia questo mondo direbbe il Vangelo questo mondo governato dal principe di questo mondo o Archon tu kosmu tu tu come si scrive come dice il greco del quarto Vangelo il principe o Archon noi traduciamo principe ma è una traduzione anche un po' leziosa Archon è il comandante quello che sta davanti in prima fila il duce il leader nel senso che quello che manda che governa tu lead che conduce Führer dicevano i tedeschi il verbo Führer in tedesco significa appunto condurre è lo stesso verbo di ducere è lo stesso verbo di lead in inglese questo è il verbo Archon rimanda a questo non è il principe noi pensiamo il principe il piccolo principe è il capo il capo di questo mondo secondo la prospettiva evangelica non è appunto Dio ma è un personaggio Satana io non credo all'esistenza di Satana comunque diciamo che è una logica una logica della forza una logica dell'impero una logica del denaro una logica dell'imposizione la la volontà di potenza questo è se tu esci da questa logica cambi mentalità cambi nus come dice Marco 1 15 col verbo di metanoein cambiare modo di pensare cambiare nus tu diventi regno di Dio tu diventi regno di Dio un territorio di Dio e il tuo capo non è più se credi a Satana credi a Satana io non ci credo non c'è niente a che fare col satanismo ma diciamo non credi più a quella logica sorda cieca che è la logica della potenza dell'imperio ma diventa il tuo capo diventa una voce che parla di bene di giustizia di armonia di bellezza di verità un essere umano un uomo una donna che accolgono questa questa prospettiva in loro in loro si realizza il regno di Dio e la voce di Gesù non di Cristo non dell'agnello immolato non della del corpo del sangue non ecco la voce di Gesù del Gesù uomo è tale da suscitare il desiderio potente ed efficace di diventare il regno di Dio questo è il nucleo della mia interpretazione di Gesù ora noi avvicinandoci alla sua persona che distinguiamo dal titolo Cristo che altri Gesù non si è mai non ha mai usato il termine Cristo per sé altri hanno parlato di Lui come Cristo che è un termine greco che si rifà all'ebraico messia che significa unto quello dell'unzione dell'olio per cui il re e quindi appunto il messia atteso avrebbe avuto se ci avviciniamo a Gesù noi dobbiamo così come rispetto a Socrate capire chi è stato Socrate cosa è stato e così il Buddha cosa è stato Socrate è stato un politico il Buddha è stato un medico Confucio scusate Socrate è stato un educatore il Buddha è stato un medico Confucio è stato un politico e Gesù cosa è stato ci sono quattro modalità principali oggi di rispondere a questa domanda si dice Gesù è stato questa è la risposta tradizionale il fondatore del cristianesimo Gesù è stato il fondatore di una religione il Gesù storico questo ha voluto fare annunciare un nuovo volto di Dio da cui è nata una nuova religione che si chiama appunto cristianesimo questa diciamo che è la lettura del Gesù storico ufficiale tradizionale Gesù come fondatore del cristianesimo una seconda modalità di rispondere alla domanda su cosa sia stato Gesù dal punto di vista storico è quello di ritenerlo un politico un politico rivoluzionario ci sono molti libri che parlano di Gesù in questi termini Gesù ribelle rivoluzionario Gesù vicino agli zeloti Gesù combattente per l'indipendenza del suo popolo oppresso dal dominio dell'impero romano quello che Gesù voleva fare era liberare Israele dall'oppressione lottava per l'indipendenza era un partigiano uno zelota come si chiamavano a quel tempo i partigiani di quel tempo oppure si può rispondere dicendo Gesù ma Gesù fu un filosofo portatore di una saggezza e di una sapienza più saggezza che sapienza nel caso di Gesù molto pratica un filosofo paragonabile alla scuola cinica di di antistene e di diogene di sinope c'è un filosofo appunto per il quale più che la dottrina più che le idee era importante il modo di vivere l'autenticità l'austerità l'essenzialità della vita la povertà la povertà la sobrietà vivere filosoficamente ovvero vivere in povertà rinunciare a tutte le cerimonie che la vita umana in sé richiede e andare all'essenziale e non dire mai falsità dire sempre quello che si pensa a chiunque in ogni circostanza non mentire mai ecco Gesù è stato secondo alcuni studiosi è stato anzitutto questo ha voluto annunciare l'umanità profonda dell'uomo questo era il senso del regno di Dio oppure quarta risposta chi è stato Gesù Gesù è stato è stato un ebreo osservante è stato un fariseo se voi leggete i Vangeli vedete che i più grandi nemici di Gesù furono proprio i farisei il suo bersaglio polemico preferito eppure secondo questa visione si tratta di una interpretazione scorretta da parte degli evangelisti secondo questa visione Gesù ebreo era ed ebreo volle rimanere fino alla fine Gesù non fu cristiano fu ebreo Gesù non era cristiano era un ebreo e tale volle rimanere e non tradì mai la Torah e non tradì mai la sua religione anzi lottava per un'osservanza più intensa più pura e gli studiosi di questa prospettiva dicono che non c'è nessuna singola parola di Gesù che non sia già stata detta prima di lui o comunque dopo di lui all'interno del Talmud che non si ritrovi nel Talmud a significare proprio questo questo aspetto che Gesù nella sua essenza fu un religioso ebreo radicale osservante ma capite che ci troviamo di fronte a interpretazioni molto diverse la prima per esempio è esattamente l'opposto della quarta la prima dice che Gesù viene dall'ebraismo ma rompe l'ebraismo e vuole fondare un'altra religione fondatore del cristianesimo la quarta di queste che ho detto dice esattamente il contrario Gesù era un ebreo ed ebreo volle rimanere fino alla fine non fu lui a fondare il cristianesimo furono altri a partire da San Paolo ecco io penso che ci sono parti di verità sia nella prima sia nella seconda sia nella terza sia nella quarta devo dire quella da cui mi sento più distante di tutti è la terza quella che parla di Gesù come un filosofo perché perché lo ritengo veramente molto distante dalla mentalità filosofica che si trova in Socrate che si trova in generale insomma nella filosofia greca ritengo molto distante la mentalità di Gesù è vero che Gesù fu soprattutto secondo me la seconda e la quarta prospettiva hanno grandi semi di verità è vero che Gesù volle ebbe l'azione di Gesù ebbe anche una dimensione politica non ci sono dubbi tra i suoi discepoli c'erano degli zeloti e religione politica al tempo di Gesù erano estremamente connesse non si poteva essere religiosi da ebrei senza volere l'indipendenza del popolo di Israele era impossibile quindi la la seconda e la quarta prospettiva hanno molte connessioni l'una con l'altra però però a mio avviso la vera risposta così come l'ho potuta capire io leggendo studiando pensando meditando da tanti anni ormai le fonti evangeliche ecco la verità è che Gesù l'azione di Gesù non è designabile come un'azione politica perché il politico è uno che vuole incidere sulla storia su questo tempo cambiando questo tempo Gesù non voleva cambiare questo tempo Gesù pensava che questo tempo sarebbe stato completamente rivoluzionato non da lui ma da Dio Gesù ha insegnato ha predicato la divisione del tempo arrivava qualcosa che avrebbe scompaginato completamente la storia ma non devo prepararla io e insieme agli altri facendo rivoluzioni facendo no questa cosa arriva è un evento è il giorno di Yahweh come dicevano i profeti il giorno del Signore Gesù credeva che quando la Bibbia ebraica il libro dell'Esodo parlava dell'apertura del mare dell'Esodo dell'Egitto era qualcosa di storicamente avvenuto Gesù credeva che quando le mura di Gerico al suono della tromba di Giosuè caddero e gli ebrei gli israeliti conquistarono Gerico era qualcosa di storico e Gesù credeva esattamente come i profeti che quel braccio del Signore che si era manifestato nella storia nel passato si sarebbe ripresentato con la stessa efficacia e la stessa potenza nel presente quindi noi abbiamo a che fare con Gesù proprio da Gesù come profeta escatologico apocalittico cosa è stato Gesù? è stato un profeta un profeta escatologico apocalittico ha annunciato il regno di Dio ha annunciato l'imminenza del regno di Dio perché il concetto cardine di tutto l'insegnamento di Gesù del suo pensiero della sua vita è il regno di Dio e su questo c'è un'animità tra tutti gli studiosi un'animità se voi prendete i migliori le migliori monografie di lingua italiana ma per riferirsi alla lingua italiana ma la stessa cosa vale per la lingua tedesca la lingua francese la lingua inglese eccetera voi trovate che le migliori monografie tutte concordano nel dire che il centro dell'insegnamento di Gesù era Basileia Tuzzeu il regno di Dio e un regno di Dio lo ripeto per l'ennesima volta che sarebbe arrivato presto prestissimo sentite questi brani vi leggo quattro brani dei Vangeli che secondo me ci fanno sentire quella che viene definita la ipsissima vox Jesu cioè la voce stessa di Gesù e perché dico questo? ma perché questi brani che adesso vi leggo queste poche righe sono estremamente imbarazzanti sono imbarazzanti perché parlano di annunciano eventi che non si sono poi realizzati e quindi e quindi per gli evangelisti che compongono i Vangeli 70 80 90 anni dopo la nascita di Gesù Gesù muore nel 30 il primo Vangelo diciamo così usiamo quelle che sono date convenzionali viene viene scritto nel 70 il Vangelo di Marco passano 40 anni non sono pochi 40 anni allora Gesù è già morto è morto da 40 anni ha detto delle cose che non si sono avverate e Marco le riprende le scrive la stessa cosa fa Matteo 10 o 15 anni dopo Marco la stessa cosa fa Luca 10 15 20 anni dopo Marco e allora gli evangelisti presentano queste frasi che sono per chi le legge imbarazzanti perché uno le legge e dice ma come dice che sarebbe arrivato il regno di Dio e poi il regno di Dio non è arrivato che cosa abbiamo abbiamo quello che gli studiosi definiscono un criterio ermeneutico di un'importanza fondamentale cioè l'imbarazzo siccome sono frasi imbarazzanti è del tutto logico che gli evangelisti non le hanno inventate non le hanno messe sulla bocca di Gesù voi direte ma niente gli evangelisti hanno messo sulla bocca di Gesù e io vi rispondo non è vero non è vero ci sono delle frasi che sicuramente gli evangelisti hanno posto sulla bocca di Gesù e che Gesù non ha potuto dire facciamo un esempio la morte di Gesù le ultime parole le ultime parole sono ultime parole giusto? bene secondo il Vangelo di Marco le ultime parole di Gesù in croce sono Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato e Gesù morì secondo Matteo uguale sono le stesse parole Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato se voi leggete il Vangelo di Luca che viene dopo Marco e che viene dopo Matteo voi vi incontrate con queste altre parole le ultime parole Padre nelle tue mani affido il mio spirito come è morto Gesù che cosa ha detto o una frase o l'altra non è possibile che abbia detto quali sono state le ultime parole ma non è finita perché se voi leggete il quarto Vangelo trovate un'ulteriore versione trovate Gesù che dice tutto è compiuto consumatum est come dice la vulgata avevo un compito avevo una missione avevo un mandato e l'ho realizzato tutto è compiuto le parole di Marco sono parole di uno sconfitto le parole di Giovanni le ultime sono parole di un vittorioso tutto è compiuto ho vinto la mia mission scusate l'inglese che mi è venuto la mia viene così insomma la mia missione che avevo da compiere l'ho realizzata capite allora criterio dell'imbarazzo quali sono le parole che non imbarazzano l'evangelista e non imbarazzano i lettori certamente quelle del quarto Vangelo certamente quelle del terzo Vangelo le parole del secondo e del primo sono imbarazzanti infatti sono state cambiate allora veniamo queste parole sul regno di Dio che adesso vi leggo che sicuramente sono vere perché sono tremendamente imbarazzanti e quindi nessun evangelista le ha inventate le ha inventate le ha riportate però prima ancora di leggerle un'altra cosa gli evangelisti le hanno riportate capite? non sono dei falsari gli evangelisti possono aver cambiato qualcosa così ma hanno riportato anche delle affermazioni imbarazzanti cioè non si sono messi a tavolino per dire vediamo come ingannare no queste parole vengono dal maestro noi non le capiamo non si sono realizzate e tuttavia le presentiamo lo stesso quindi abbiamo a che fare con qualcosa di molto genuino e grazie a questa genuinità che nella gran parte dei casi gli evangelisti non sempre ma nella gran parte dei casi gli evangelisti esercitano grazie a questa genuinità noi possiamo sentire la voce stessa di Gesù marco 13 30 in verità io vi dico non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga matteo 10 23 in verità io vi dico non avrete finito di percorrere le città di israele prima che venga il figlio dell'uomo marco 9 1 in verità io vi dico vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di dio nella sua potenza infine matteo 23 36 in verità io vi dico tutte queste cose ricadranno su questa generazione ci sono altri indizi qua e là nei vangeli per esempio le parole di Gesù davanti al sommo sacerdote ma noi dobbiamo trascurarli adesso già queste quattro frasi sono sufficienti per dire che cosa per dire la profonda convinzione di Gesù sull'imminenza dell'avvenuta del regno di dio il tempo è compiuto il regno di dio è imminente convertitevi marco 1 15 questa è la frase programmatica di Yeshua ben Yosef il nome effettivo di Gesù l'ebreo Yeshua ben Yosef Gesù figlio di Giuseppe il tempo è compiuto il regno di dio è imminente convertitevi abbiamo un indicativo indicativo il tempo è compiuto il regno di dio è imminente sta arrivando il tempo è finito è compiuto nel senso è finito è consumata la storia ha finito di produrre male finalmente dio ritorna a riprenderla in mano la stessa idea di Amos la stessa idea di Isaia la stessa idea di Geremia e di tutti gli altri grandi profetti che parlano della potenza di Yahweh della mano di Yahweh che viene e riprende la storia e torna a guidare il suo popolo il tempo è finito e quindi voi convertitevi indicativo imperativo indicativo qualcosa avviene qualcosa devi fare questo è prova ne sia che questa era la oltre ai brani oltre ai brani come dire che sono stati riportati ulteriore prova della centralità dell'escatologia sono le lettere di Paolo non tutte perché Paolo poi capisce come stanno le cose e capisce che il regno di Dio non arriva e quindi cambia prospettiva e cambia il baricentro il baricentro che è verso il futuro Paolo lo porta al passato e dice che l'evento salvifico che deve arrivare cioè il regno di Dio in realtà è qualcosa che è già avvenuto l'evento salvifico è la morte e la risurrezione di Gesù in particolare la morte sia chiaro in particolare la morte perché la risurrezione è semplicemente l'attestazione che la salvezza che la morte in croce ha ottenuto effettivamente è avvenuta ma il 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 simbolo cioè non il simbolo il centro effettivo della della salvezza l'evento salvifico è la morte di croce e non a caso che è la croce il crocifisso il simbolo cristiano non è un risorto la risurrezione è l'attestazione che la salvezza mediante il sangue versato sulla croce è avvenuto Paolo che cosa fa prende quello che era il centro salvifico che era verso il futuro lo sposta al passato ma lo fa a partire dalla lettera dalla seconda Corinzi dalla lettera ai Galati dalla lettera ai Romani e dalle altre ma in due lettere nelle prime due lettere di Paolo prima tessalonicesi e prima Corinzi soprattutto prima tessalonicesi che è la primissima scritta nel 49 tra 48 49 mentre i Vangeli sono scritti nel 70 Marco è scritto nel 70 questo Gesù era morto da neanche vent'anni quando Paolo scrive la prima lettera ai tessalonicesi ecco se voi leggete la prima lettera ai tessalonicesi capite che il centro è ancora il futuro qualcosa che deve arrivare e se voi leggete la prima lettera ai Corinzi il capitolo 15 lo stesso mi limito a leggere poi prima Corinzi 15 51 ve lo leggete da voi se volete io mi metto mi limito a leggere prima tessalonicesi 4 16 17 quando Paolo si rivolge agli abitanti di tessalonica oggi si chiama tessalonico la città del nord della Grecia e dice così il signore stesso ha un ordine sia chiaro sto leggendo la traduzione ufficiale della CEI cioè non è che uno dice ma è tradotto in maniera è la traduzione ufficiale della conferenza episcopale italiana il signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di dio discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in cristo quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al signore in alto fine della citazione prima tessalonicesi 4 16 17 qui paolo dice chiarissimamente noi non moriremo ragazzi noi non moriremo perché quel gesù che avete visto salire presto ritornerà perché l'annuncio forse noi l'abbiamo capito male l'annuncio del regno di dio ma certamente era tale l'annuncio il regno di dio sta arrivando consisterà nel ritorno di gesù vincitore e nel fatto che anche noi saliremo con lui il signore discenderà dal cielo e allora risorgeranno i morti in cristo gli altri no i morti in cristo e noi che viviamo e che saremo ancora in vita noi noi paolo dice noi noi non moriremo quindi vuol dire che è questione di di mesi se non di giorni questo ritorno quindi noi non moriremo noi verremo rapiti insieme con loro nelle nubi insieme a quelli che erano ai morti in cristo e andremo incontro al signore in alto se voi leggete la prima corinzi 15 51 trovate lo stesso messaggio poi non lo trovate più e queste parole risultano imbarazzanti evidente estremamente imbarazzanti però queste parole attestano che quanto io ho tentato di illustrare cioè l'idea di Gesù l'imminenza del regno di Dio la divisione della storia si legge nel Vangelo di Matteo capitolo 10 non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra sono venuto a portare non pace ma spada sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre la nuora da sua suocera i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa sentite la radicalità del profeta che viene a portare spada e separazione altro che il buon Gesù qui abbiamo a che fare con un con un giustiziere nel senso giustiziere è una brutta parola quindi forse non l'ho neanche trovata giusta forse non è neanche adatta ma è una persona che vuole riportare giustizia che vuole riportare giustizia e sa che a volte la giustizia richiede divisione lotta spada appunto guerra sono venuto a portare la spada nel Vangelo di Luca si legge la stessa cosa sono venuto a giottare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso pensate che sia venuto a portare pace sulla terra no vi dico ma divisione Luca 12 49 è la stessa cosa lui è venuto a portare ad annunciare un evento che dividerà che rovinerà una parte della storia e ne riscatterà un'altra da qui il senso della divisione delle famiglie tutti voi sapete che la pagina più nota della predicazione di Gesù sono le beatitudini beatitudini che fanno parte del discorso della montagna discorso della montagna è il discorso principale di Gesù amatissimo da tutti i cristiani ma vorrei dire anche dai non cristiani Gandhi diceva che quando lo leggeva non poteva non commuoversi parole altissime discorso della montagna che si trova nel capitolo quinto sesto e settimo del Vangelo di Matteo e che comincia dicendo Gesù salì su un alto monte e cominciò a parlare ora se voi leggete il Vangelo di Luca vedete invece che non c'è nessun discorso della montagna ci sono parole che vengono che sono simili a quelle del discorso della montagna ma che vengono pronunciate dice l'Evangelista Luca in un luogo pianeggiante è un esempio per capire ancora una volta il lavoro redazionale degli evangelisti queste parole sono identiche se vuole le beatitudini e altri detti che Gesù appunto le pronuncia ma le ha le ha pronunciato sulla montagna come dice Matteo o in un luogo pianeggiante come dice Luca non ha molto importanza naturalmente ma è un dettaglio per capire ancora una volta il lavoro redazionale e noi sappiamo noi possiamo capire che certamente aveva ragione Luca che non ci fu nessun discorso della montagna la montagna nella Bibbia è il luogo della teofania la montagna è Sinai la montagna è l'Oreb la montagna è il luogo della rivelazione e quindi Matteo che vuole presentare Gesù come nuovo Mosè lo fa parlare sulla montagna Luca che non aveva questo tipo di intenzione teologica ne aveva altre lui non si cura di farlo salire su una montagna e dice effettivamente come sono avvenute le cose ecco non si tratta di falsità si tratta di una costruzione teologica ecco questo è importante dirlo non è un falsario l'evangelista in ogni caso venendo al discorso della 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 montagna o meglio ancora venendo alle beatitudini noi vediamo che le beatitudini sono diverse in Matteo sono diverse in Luca quindi non è solo diverso il luogo è diverso anche il contenuto perché in Luca le beatitudini sono solamente tre mentre in Luca mentre in Matteo sono otto in Luca tre Matteo otto non solo in Luca ci sono anche delle maledizioni così come nei profeti in Matteo non ci sono le maledizioni alla luce della costruzione successiva che cosa è storicamente più probabile quale delle due versioni è più probabile quella di Luca di beatitudini e di maledizioni o quelle di Matteo di solamente beatitudini a mio avviso è più probabile che la versione originaria fosse quella sia quella di Luca perché il Gesù della storia Yeshua era un profeta e come i profeti avevano oltre alle benedizioni anche le maledizioni allo stesso modo Gesù che aveva oltre alle beatitudini anche delle maledizioni tutto questo poi il cristianesimo l'ha dimenticato e poi è venuta fuori un'immagine l'immagine del buon Gesù del va bene ma è cristianesimo non è Gesuanesimo e non è necessariamente un male anzi se non ci sono le maledizioni può essere persino un bene è comunque diverso questo è quello che voglio dire è diverso la versione di Luca è la seguente beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio beati voi che ora avete fame perché sarete saziati beati voi che ora piangete perché riderete ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete Luca 6 20 25 qualcuno ha parlato di trasvalutazione dei valori a proposito del messaggio di Gesù ma qui non abbiamo nessuna trasvalutazione dei valori perché il valore che è quello di poter mangiare che è quello di poter essere sereni di ridere insomma di non essere nella tristezza questi valori sono permangono qui quello che cambia sono i destinatari quindi si tratta di una trasvalutazione non etica ma politica i destinatari Gesù dice quelli che adesso hanno quelli che adesso sono felici quelli che adesso sono contenti quelli che adesso godono della vita in tutte le reage non lo saranno più e viceversa quelli che adesso sono nella situazione opposta lo saranno quindi non è che cambiano i valori i valori sono sempre quelli cambiano i soggetti coloro che possono godere usufruire dei valori quindi ancora una volta il messaggio delle beatitudini ci fa capire qual è l'autentico cuore del messaggio di Gesù che è la divisione del tempo il vero messaggio delle beatitudini è la divisione tra un prima e un dopo prima le cose andavano così dopo le cose andranno cosà questo è il vero messaggio delle beatitudini che riguarda precisamente la divisione del tempo tra un adesso ingiusto e un dopo che finalmente sarà giusto tornerà a essere giusto quindi Gesù viveva di questa profonda convinzione di questo di questo messaggio che avrebbe diviso il tempo spaccato la storia effettivamente la storia si è spaccata avanti Cristo e dopo Cristo ma non come come pensava lui si è spaccato in un'altra maniera non è stata una divisione del tempo gesuana è stata una divisione del tempo cristiana e non a caso non si dice avanti Gesù dopo Gesù si dice avanti Cristo dopo Cristo ma in ogni caso lui credeva a questa divisione del tempo ma capite allora anche che a questo punto noi possiamo capire la radicalità della sua etica io sono in quello che vi dico non sono per niente originale perché mi rifaccio alla visione di Gesù di due grandi studiosi tedeschi anche di altri ma in particolare di questi due Johannes Weiss e soprattutto Albert Schweitzer Albert Schweitzer per il quale io ho una vera e propria venerazione si tratta di colui che nel 1952 vinse il premio Nobel per la pace il dottor Schweitzer colui che dopo essersi occupato di Gesù e aver scritto libri molto importanti su Gesù ma anche su Kant perché insegnava filosofia della religione a Strasburgo lasciò perdere gli studi teologici si dedicò alla medicina si specializzò in malattie infettive e andò nell'Africa equatoriale a guarire a curare e qualche volta a guarire la gente all'Ambaranè e per questo appunto gli venne assegnato il premio Nobel per la pace ebbene Schweitzer a parlare di Gesù o meglio dell'etica di Gesù come di un'etica interinale interinale così come i lavori ci sono lavori interinali ci sono i lavori a tempo indeterminato e ci sono i lavori interinali cioè i lavori ad interim che sono che hanno un tempo racchiuso poi si concludono quel tempo finisce ecco l'etica di Gesù dice Schweitzer questi precetti così strani così difficili vorrei dire così impossibili dopo li vedremo da praticare concretamente si spiegano non alla luce dell'eternità del tempo che sempre così sarà per cui si tratta di un'etica assoluta un'etica come un lavoro a tempo indeterminato così un'etica indeterminata che vale per ogni periodo del tempo no l'etica di Gesù è come il lavoro interinale che vale solamente per quello specifico spazio del tempo e della storia che è l'attesa del regno c'è il fatto che tu ti devi preparare il tempo è compiuto il regno di Dio è imminente sta arrivando preparati preparati per qualcosa che stare ecco questa preparazione a qualcosa di assolutamente sconvolgente questa questa è la cornice dentro cui si spiega l'etica di Gesù che è un'etica interinale prova ne sia che se poi tu vuoi applicare effettivamente questa etica e seguire alla lettera sine glossa come diceva Francesco D'Assisi e al contempo vuoi rimanere nel mondo non ci riesci non ci riesci non è possibile seguire i dettati di Gesù e i precetti l'etica di Gesù in maniera letterale e rimanere nel mondo leggiamone qualcuno di questi di questi precetti l'amore per i nemici amate i vostri nemici è possibile la benevolenza verso chi ci odia fate del bene a quelli che vi odiano è possibile la non violenza assoluta a chi ti percuote sulla guancia offre anche l'altra il disinteresse totale per le proprie cose a chi prende le cose tue non chiederle indietro ti stanno rubando la bicicletta lascia stare la generosità al limite dell'ingenuità da a chiunque ti chiede cioè non c'è scritto da a a qualcuno di quelli no a chiunque ti chiede è possibile l'esclusione di ogni interesse personale prestate senza sperarne nulla il disinteresse verso il lavoro e la programmazione non preoccupatevi della vita di quello che mangerete né per il corpo di quello che indosserete è possibile è possibile non preoccuparsi di quello che mangeremo di quello che daremo da mangiare ai nostri figli è possibile chi vive così il totale distacco dal denaro considerato sempre con disprezzo non potete servire Dio e la ricchezza è possibile sarebbe bello non doversi preoccupare minimamente dello stipendio è possibile l'unilaterale scusate l'unilaterale disponibilità al perdono da concedere sempre in modo incondizionato quando dice perdonate 70 volte 7 che vuol dire sempre appunto è possibile perdonare sempre è utile tra l'altro perdonare sempre qualche volta non bisogna essere severi e non perdonare la raccomandazione dell'astinenza da ogni attività sessuale quando dice vi sono eunuchi che sono tali nati così dal grembo della madre ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli il regno dei cieli sta arrivando che cosa pensi donna di incontrare un uomo uomo di incontrare una donna non è più il tempo di queste cose c'è qualcosa di molto più importante della sessualità la vigilanza costante tenetevi pronti sempre perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo questa vigilanza perché viene viene il figlio dell'uomo il figlio dell'uomo che è colui che inaugura il regno dice Gesù è possibile vivere così no non è possibile vivere così rimanendo nel mondo chi sceglie di vivere così esce dal mondo esce dal secolo entra nella vita religiosa e infatti si può vivere così vivendo da religiosi i quali poi però non è che si può vivere così vivendo da religiosi sono casti sono poveri sono obbedienti però poi per quanto attiene alla ricchezza all'amministrazione dei conventi per quanto attiene al pensare al domani agli investimenti non è che proprio il Vaticano da questo punto di vista sia un esempio di totale sobrietà dico il Vaticano ma si potrebbe dire i dominicani i francescani si potrebbe dire qualunque altro ordine religioso perché la realtà non è che siano cattivi la realtà è che non si può non si può vivendo nel mondo vivere così prendendo alla lettera queste parole di Gesù Francesco d'Assisi volle vivere sine glossa ma già i suoi discepoli lui in vita non vollero più vivere così e difatti lui lasciò l'ordine che aveva fondato lo lasciò e andò con pochi compagni a vivere ancora secondo la regola originaria questo si spiega esattamente perché l'etica di Gesù è un'etica interinale a questo punto io torno all'inizio e vado a concludere questa mia presentazione di Gesù torno all'inizio andando a riprendere quello che già ho detto e adesso lo riprendo come valutare l'errore di Gesù nessun regno di Dio è arrivato nessun regno di Dio è arrivato quindi Gesù è stato un illuso ma si può anche dire che non dico che è un illuso ma certamente si è sbagliato dal punto di vista storico Gesù si è sbagliato il regno di Dio non è arrivato ma dal punto di vista spirituale ma dal punto di vista filosofico lasciamo perdere alcuni precetti concreti che sono come dire per qualcuno molto difficili da prendere in considerazione quelle sono esemplificazioni prendiamo invece di mira l'intensio fundamentalis mi è venuto in latino perché è un'espressione che si usa in teologia morale cioè l'opzione fondamentale di ciascuno di noi cioè l'energia fondamentale per cui vivere il telos lo scopo per cui vivere si può vivere per il regno di Dio qui e ora si può fare del proprio territorio interiore un dominio di Dio se non vi piace il termine Dio usate un termine che all'interno della Bibbia ebraica è assolutamente centrale si può dire essere sinonimo e cioè giustizia il cardinal Martini lo dice ben due volte nelle conversazioni notturne a Gerusalemme che il concetto centrale mediante cui pensare Dio è la giustizia giustizia ovviamente non come legalità ma come la zedacca biblica che è la stessa giustizia di cui le beatitudini di Gesù sono ricolme delle otto beatitudini di di Matteo due concernono la giustizia gli affamati e gli assettati di giustizia e i perseguitati per causa della giustizia ecco si può fare di se stessi un territorio dove la parola fondamentale è la parola della giustizia se la risposta è sì allora vuol dire che il messaggio di Gesù per quanto storicamente errato dal punto di vista proprio della realizzazione storica filosoficamente e spiritualmente non è errato è efficace qui e ora è possibile fare di se stessi un dominio di Dio un piccolo regno di Dio è possibile ecco io concludo questo questo questa mia presentazione di Gesù dicendo quello che ho già annunciato all'inizio cioè che per me per la mia esistenza questa modalità di rapportarmi a Yeshua a Gesù di Nazareth che è diverso dal Cristo dal Cristo della fede che è diverso dalla vittima in Molà Gesù non voleva morire non avrebbe detto mio Dio mio Dio perché mi hai abbandonato Gesù non andò a Gerusalemme certo ma per portare perché capiva che lì doveva avvenire effettivamente l'annuncio ultimo che lì si sarebbe manifestato il regno non andò a Gerusalemme per morire non voleva morire altri hanno fatto di lui l'agnello immolato Gesù non voleva essere sgozzato e sacrificato come un agnello sarebbe morto in un'altra maniera sarebbe morto dicendo tutto è compiuto certo non a caso il quarto evangelista lo fa morire così secondo il quarto evangelista Gesù voleva morire ma se noi leggiamo in maniera profonda e vera vediamo che Gesù non voleva morire non avrebbe sudato sangue nel Gezzemani non avrebbe tremato di paura Gesù non voleva morire e quindi a mio avviso si è fedeli a Gesù al Gesù storico se non lo si se lo si distacca dal Cristo vittima immolata per la nostra redenzione dal Cristo agnello di Dio e lo si torna a pensare come profeta palpitante della giustizia qui e ora questo secondo me è il vero è il vero è il vero Gesù ed è il Gesù che ci che ci conduce ed è l'ultima cosa che dico a quello che Giochino da Fiore diceva il compimento del cristianesimo che è lo spirito per cui il contatto con Dio mediante Gesù diventa davvero quello dello spirito lo spirito della giustizia lo spirito del bene lo spirito profondo delle beatitudini ne viene una figura complessiva una riscrizione complessiva del cristianesimo secondo una modalità che a me ancora non è molto chiara e che per questo io definisco post cristianesimo non più cristianesimo non gesuanesimo perché non si può essere gesuani nel senso in cui Gesù lo era cioè attendendo l'avvento del regno di Dio nella storia non è possibile si può essere gesuani attendendo l'avvento del regno di Dio dentro di sé facendo di sé stessi un regno di Dio e questo può avvenire nello spirito e allora il compimento del cristianesimo è la terza età dopo l'età del padre dopo l'età del figlio diceva Gioacchino da fiore e io riprendo perfettamente la sua visione di spirito profetico dotato dice Dante ponendolo nel paradiso lui Gioacchino che era stato condannato come eretico dalla chiesa di quel tempo l'ateranense quarto Dante lo sapeva che era stato condannato come eretico e tuttavia lo colloca in paradiso e lo descrive come di spirito profetico dotato certo lo spirito è il regno dello spirito questo è il post cristianesimo e secondo me è la è la nuova spiritualità nuova antichissima non è new age è old age ecco very old indeed è una veramente antichissima niente di nuovo nel senso di nuovissima di nuovista è qualcosa di molto antico che riporta quella dimensione dello spirito nel quale Gesù si scopre fratello del Buddha fratello di Socrate fratello di Confucio e l'umanità scopre una spiritualità che è veramente in grado di unire perché lo sapete qual è la vera definizione della verità la verità è ciò che unisce grazie dell'attenzione grazie